Abbiamo testato 10 soundbar e in questo video vi mostreremo quelle che secondo noi offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. E se siete interessati a determinati modelli, abbiamo incluso i relativi link in fondo al video. Top 4 LG SG10T Questa barra ha una configurazione 3.1 ed è dotata di un subwoofer esterno. Di tutte le barre che abbiamo testato, è la più potente, 420 Watt, il che significa che può riempire grandi stanze. Il suono multicanale è molto dinamico, realistico, profondo e dettagliato e supporta Dolby Atmos e DTS-X. Sono inoltre disponibili 7 modalità, che lo rendono versatile. Durante i nostri test abbiamo evidenziato l'eccellente sincronizzazione tra suono e immagine e la buona immersione che offre, in particolare grazie ai bassi ricchi e profondi che danno l'impressione di essere nel vivo dell'azione. Inoltre, la qualità del suono rimane buona anche ad alto volume. In termini di connettività, nonostante l'assenza di una porta ausiliaria, questo modello vanta un'ampia connettività. Bluetooth 5.1, ingresso ottico, HDMI, HDMI e ARC, Wi-Fi. LG offre diverse opzioni di controllo, i pulsanti sulla barra, il telecomando, l'applicazione LG Soundbar e l'assistenza vocale, Google, Alexa, Apple Airplay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, ecc. L'applicazione consente di effettuare regolazioni del suono e persino diagnosi dell'audio. Le funzioni sono numerose. In termini di design, la barra è abbastanza sottile, ma le sue dimensioni lunghe sono adatte solo a televisori di 65 pollici o più. Inoltre, è progettata solo per essere appesa alla parete tramite la staffa in dotazione. E sebbene sia facile da installare, non è possibile posizionarla semplicemente su un mobile. Ciò nonostante, è esteticamente il più elegante e moderno di tutti quelli che abbiamo testato. In breve, se siete esigenti in fatto di suono, avete un budget elevato e possedete un televisore LG. Questa è una delle opzioni migliori. È molto potente, calibra automaticamente il suono e le opzioni di controllo sono numerose. Top 3 Serie Ultima Nova S50 Con una configurazione 5.1.2, questa barra subwoofer ha una potenza di picco di 190 Watt ed è molto potente per le sue dimensioni. È dotata di Dolby Atmos e offre un suono surround. Durante i nostri test, siamo stati in grado di godere di questa esperienza immersiva con le nostre piattaforme di streaming grazie alla connessione HDMI e ARS, anche se a volte alcune voci sembravano un po' ovattate. La tecnologia Bass MX aumenta la profondità dei bassi, che possono essere regolati, e la qualità del suono rimane buona a volumi elevati, senza troppe distorsioni. Inoltre, è possibile adattare il suono al proprio programma grazie alle tre modalità audio disponibili, film, gioco, musica. Dispone inoltre di una buona gamma di connessioni, Bluetooth 5.3, HDMI, ingresso ottico, porta ausiliaria, porta USB, e di una serie di cavi che gli consentono di funzionare con la maggior parte dei dispositivi. È facile da controllare, con un telecomando reattivo e diversi pulsanti sulla barra. Tuttavia, le batterie per il telecomando non sono incluse. In termini di design, la barra è senza dubbio una delle più compatte sul mercato e si adatta a schermi piccoli e grandi, da 19 in su. Inoltre, è possibile montarla facilmente su un mobile o fissarla alla parete grazie alla staffa a muro. In conclusione, sebbene vi sia un margine di miglioramento in alcuni dettagli, migliora chiaramente il suono di un televisore. Nonostante le dimensioni ridotte, è molto potente e ne apprezziamo la buona connettività. Top 2. Samsung HW Q800D Questa soundbar ha una configurazione 5.1.2 e un subwoofer esterno wireless, che aumenta la potenza totale a 360 Watt. Di conseguenza può coprire un'ampia area e offrire un suono surround che migliora l'immersione. Supporta numerosi formati, ma non i video 4K a 120 Hz. Inoltre, incorpora tecnologie avanzate come Q-Symphony, solo per i TV Samsung, o Adaptive Sound, per godere di effetti sonori 3D e ottimizzare il palcoscenico. Durante i nostri test, abbiamo apprezzato il suo audio durante la visione di film e serie, dando l'impressione di essere al centro dell'azione. I dialoghi sono ben resi e i bassi sono fedeli, sia che si ascolti musica, giochi o programmi TV. Anche a volumi elevati, non abbiamo notato alcuna distorsione e il sistema mantiene sempre una buona precisione. È possibile aggiungere altoparlanti opzionali, anche sul retro, per un'immersione totale. Sono disponibili 4 modalità audio, Standard, Surround, Game, Adaptive Sound, per adattare l'audio al programma che si sta guardando. Per quanto riguarda i comandi, si tratta di un modello semplice da utilizzare e che può essere controllato in diversi modi. Il marchio fornisce un telecomando a batteria, che consente di regolare la sorgente, la riproduzione, il volume, la modalità audio, le impostazioni audio e l'aumento degli alti o dei bassi. La barra ha anche 4 pulsanti di controllo e uno schermo in basso a sinistra, appena visibile da lontano. È presente anche l'applicazione SmartThings, semplice e intuitiva, che consente di accedere all'equalizzatore e ad altre impostazioni utili. La barra incorpora una porta USB, una porta per cavo ottico, una porta HDMI IN, una porta HDMI EARC e una porta di alimentazione. È incluso un cavo HDMI, ma non un cavo ottico. È presente anche una connessione Bluetooth stabile e una connessione Wi-Fi tramite l'app SmartThings. Grazie alla buona connettività, la barra funziona con la maggior parte dei dispositivi, TV, smartphone, tablet, computer, eccetera, e limita le perdite di qualità del suono. Una critica è la mancanza di una porta ausiliaria, ma è vero che questo tipo di porta sta diventando sempre più rara. In termini di formato, il design è un po' lungo e ingombrante, ma offre contrasto e profondità. Si adatta perfettamente ai televisori di medie e grandi dimensioni, dai 46 pollici in su. Facile da installare. La barra può essere collocata su un mobile o fissata alla parete con le viti e le staffe in dotazione. Infine, ma non meno importante, è ben rifinito e dal design sobrio per integrarsi in qualsiasi ambiente. Top 1 Yamaha SR-C20A Questa soundbar ha un design sobrio ed elegante che si adatta a qualsiasi salotto. Facile da installare, può essere posizionata su un mobile o appesa alla parete grazie ai due fori per le chiavi sul retro, anche se le viti non sono fornite. Le misure sono 60x6,4x9,4 cm, quindi è adatto a schermi di dimensioni superiori a 27 pollici. Non dispone di un subwoofer esterno e, sebbene ne incorpori uno all'interno della struttura, non è il più potente tra quelli testati, in quanto raggiunge un massimo di 100 Watt. Nonostante ciò, il suo design allungato garantisce un buon contrasto e una buona profondità del suono. Grazie alla tecnologia Virtual Surround 2D e alla funzione Clear Voice, migliora l'immersione e offre una buona dinamica con film e serie. Inoltre, mette in risalto i dialoghi, con una buona chiarezza vocale e un rumore di fondo ridotto. Supporta anche il Dolby Audio. Durante i nostri test, si è dimostrato efficace anche con i programmi sportivi, i giochi e la musica, grazie in particolare alle quattro modalità audio, stereo, standard, film, gioco, che consentono di adattare il suono al programma. Il suono è ben bilanciato e non abbiamo notato alcuna distorsione, anche a volumi elevati. Le opzioni di controllo sono numerose. C'è un telecomando, batterie incluse, e l'intuitiva applicazione Soundbar Remote. Queste due opzioni consentono di regolare la sorgente, il volume, le modalità audio e le funzioni di miglioramento, Clear Voice e Bass Extension. Sulla barra sono presenti quattro pulsanti sensibili al tocco per regolare il volume e cambiare sorgente. Nonostante ciò, non c'è uno schermo, ma solo luci di funzionamento a LED, il che è meno ergonomico. In termini di connettività, questa barra dispone di due porte per cavi ottici, un ingresso HDMI e ARC, una porta di alimentazione, un ingresso analogico e una porta USB-A. Dispone inoltre di una connessione Bluetooth Multipoint, anche se non compatibile con Dolby Atmos. Di conseguenza, è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, TV, smartphone, tablet, PC, eccetera. Ha una minima perdita di qualità e supporta il suono surround. Il cavo di alimentazione e il cavo ottico sono in dotazione, ma non viene fornito un cavo HDMI. In conclusione, grazie alla riproduzione sonora equilibrata, alle molteplici opzioni di controllo e alle numerose tecnologie, questo modello offre il miglior rapporto qualità-prezzo tra tutti quelli che abbiamo testato. Con questo si conclude la nostra selezione delle migliori soundbar. Se siete interessati ad alcuni modelli, troverete i link ai loro migliori prezzi proprio sotto questo video.